Sono rimasta colpita da quello che diceva nello sclavo. Ci sono soldati inglesi ed europei, i boots on the ground che tutti quanti negano di voler avere, già ci sono. L'idea che in questa situazione si attacchi la Russia mi pare una cosa folle, un rischio spaventoso. Tutti sanno che si attacca in Russia, stiamo dichiarando la guerra alla Russia, mi sembra una follia semplicemente. Infatti nello scavo sottolineava proprio il nodo legato al diritto internazionale, credo che fosse proprio quello. Sì, e questo per due ragioni. Prima di tutto perché in realtà da tempo sappiamo che sono presenti naturalmente dei professionisti della guerra in Ucraina, chiamiamoli mercenari, contractor, figure che tante volte abbiamo incontrato su tanti conflitti che naturalmente, ufficialmente, sono lì per lavorare, essere arruolati per conto delle autorità ucraine e ci tengono a sottolineare di non essere lì come inviati dai paesi di origine. Ma il punto è, ripeto, che queste figure, che sono piuttosto numerose, sono lì da tanto tempo, difficilmente si muovono senza avere contatti con l'intelligence dei paesi da cui provengono. Noi le abbiamo intervistate tante volte, sono informazioni note. Il punto, ripeto, dal punto di vista del diritto internazionale, anche della sicurezza dei civili ucraini, è anche un altro. E cioè, in quella parte della Russia ci sono le basi di lancio dei missili utilizzate per colpire l'Ucraina. È corretto oppure no? È necessario oppure no? Provare a disarticolare queste basi di lancio per poter impedire alle forze russe di bersagliare, in particolare i civili ucraini? In questo momento, mentre parliamo, ci sono stati dei morti a Kherson, ad esempio, a causa dell'artiglieria russa che, come sapete, è attestata appena al di là del fiume Dnipro, che taglia a metà la città. Questo pone una serie di problemi nuovi, dal punto di vista politico, naturalmente, diplomatico, del diritto internazionale. Bisogna capire quali sono le reali intenzioni dell'Ucraina, che però, dal suo punto di vista, e bisogna anche considerare questo, dice che noi siamo stati invasi perché non possiamo noi provare a fare lo stesso non per trattenere un pezzo di territorio russo, ma per creare una fascia di cuscinetto mettendo in sicurezza i nostri territori. È tutto maledettamente complicato, come è sempre la grammatica della guerra, soprattutto quando non abbiamo tutte le informazioni. La politica, come dicevate voi, sembra piuttosto, non dico distratta, però non padroneggiare tutto quello che sta accadendo. Allora, stiamo cercando Bruno Vespa che...